In questo bellissimo territorio, in questo bellissimo comprensorio di Piana degli Albanesi spicca in maniera armonica questa struttura, Valle e i Mare. Come nasce l'idea di Valle e i Mare? Nasce dalla volontà intanto mia e della mia famiglia, quella di creare un futuro per i figli, perché il problema che abbiamo noi al sud è che si fanno le cose però i figli poi scappano. Per non arrivare a questo punto abbiamo deciso con mia moglie di lanciarsi nel turismo. Abbiamo realizzato questo posto che chiaramente negli anni va migliorando perché l'investimento, specialmente sulle strutture turistiche, ma un po' su tutte le attività, gli investimenti vanno fatti anno per anno. Parliamo della struttura, delle attività, perché è una struttura ricettiva. È una struttura un po' mista perché è una struttura che ha dieci camere disponibili al momento, ma c'è in programma di farne altrettanto. Quindi la sala ristorante, c'è la piscina e c'è un centro di equitazione. Questo centro di equitazione era nato negli anni 2000 come centro di ipoterapia, che negli anni, visto le crisi economiche dei vari enti, regioni, comuni, eccetera, si è spento, si è quasi spento. Quindi abbiamo dovuto riscommettere tutto per creare un'attività che ci possa permettere di mantenerci. Tutto nasce e inizia dalla passione per il cavallo, un animale nobile che viene recuperato nel sentimento del mio amico e che viene posto al centro di una serie di attività che poi spaziano dalla recettività alla ristorazione. Il riconoscimento oggi a lui viene dato proprio in funzione di questo loro impegno che consente a tanti ragazzi di poter rimanere nella loro terra e per questo, diciamo, a nome dell'Assemblea regionale, io voglio dare lui questo riconoscimento proprio a Mario Bovi, imprenditore siciliano ai pianeti di Albenesi, che con coraggio è investito in rifarmi di una vita nella terra dove è nato.